La trasmissione da Schnett Anze Kishtemes Kulta sui fabbricacci in Cepoli Powers Di più manco affari di Carsema La Borsa Internazionale del Turismo BIT a Milano Stiamo spettando in questa puntata di Euro TV di Foraola che baggeranno di gastronomia, di turismo e di culti Tina Senga e Powers saldi stravardesi della culta comunale sui fabbricacci in Cepoli Con l'introduzione della IMU Poi l'engendere che si da seno al prigo da me sei i branchi tiftega io Le Stati e sue entità territoriali mestraete due cicholi di Caravà La trasformazione della culta ICI e la IMU sarà perché l'incia tocca i Powers che poteva a Cina senza stessi saldi sauride che sversi La IMU è una culta comunale e perché l'abbene il Belosenda senza scaccare da antar la Unione Provinziale dai Powers di Tirol e la Lìa Provinziale dai comuns che si tratta di un'intera di fabbricare che non ci sono scelta e che riempano la maggior parte delle immagini delle tabelle e delle scuole del mondo Una rata che si tratta di un'intera 60 milioni di euro in Sud Tirol In una grande somma si tratta di Powers e si tratta di un'intera di una piccola la contrada. In una buona perdita al patrimonio architettonico rurale, già si è più aperta. E insomma, è che ci sono la prima rata di Limu. In questo caso, i nostri ragazzi sono tratati. E ci sono anche i nostri spessi. Dopo che in ogni Stato, in ogni provincia e in alle comuni, possiamo permetter di mettere al prego l'esistenza di un grand numero di paurs. i dei sui luigi. Anche la banca centrale, da una perioda di grande espansione e crescita economica, aumenta il fit di sconto per arforare il tema dell'inflazione, che comporta un aumento generale di 12 fici e perché l'ince una arforata di crediti e di economia. Un altro motivo può essere il fallimento di una o di più banca, e in ultimo per la mancanza di liquidità sui marchi finanziari. Da noi non possiamo mai cambiare di restrizione creditica, ma più l'euro di valutazione più rigorosa di crediti. C'è senza trinche una cosa d'arte e necessaria, su rendere dei periodi di crisi e malsiciusi. Se il crediti è giustificato, accompagnato e sostenuto in un buon plan finanziario, e se la capacità di pagare i debiti è clare, che garantirà la cassa Reifaisen in città di ogni credito a sui soci e a sui clienti. La nostra religione cristiana si mette per l'arte dante da gine la cern e in capiung e le vendere startan la carsema. Ci sono lezioni di repercussioni sull'economia che l'anzo riti da manè a bocca, a un resto radù e a un covenne pesce. La dottrina cristiana domanasse di sostenere dalla cern e da ciappuini, di vendere di carsema e del vendere cento. Se di questo venisse a tenere conto della gente, i bcei connessi a senader che di questo tempo di pesca e vendere manco. La moglie di gente, sicuramente la mingola di accorgimento, va a comprare la cern, specialmente quella di Porcel, che praticamente la tira fuori dal normale baste che d'ora sa. Le più leggende al post che avvada a questa roba, al di Danché troppo legge perduto, e le anche più sorrì mantenere la roba da manier che non la vai ademelo. Non sia più brea di provvedere in manier tutto il mediemo di, ma un po' nota l'era altra menter. E ci sono la mente più marcata, specialmente al mercol, al di Doha. Il primo giorno di Carai Zemal era proprio un calo drastico, specialmente la gente del post dove non si vedeva nessuno. E adesso invece, insomma, è difficile capire, ecco. I ristoranti non sappiamo del tutto, perché anche noi i ghiacci vengono spesso da fuori di qua, e noi abbiamo la media usanza. Noi abbiamo i ghiacci e mingono da tutta il mondo, per cui non cambia più che troppo che l'utilizzo, anche della CERN, che a ogni cliente mangia tranquillamente CERN, anche il vendersante. E allora magari noi guardiamo dei ingegneri, anche ricette diverse, o che piace diverse per chi dice, però l'essere al tutto magari i clienti italiani, che provano qualche di differente, piuttosto che non i clienti di tutta Europa, scandinavi, che non mi chiedono da questo periodo. Se c'è gente del post, magari che anche le vendersante fanno più attenzione a quello del menù, ecco. Magari hanno un prunco, la CERN, o magari toglie il pesce. Coglie di dire che anche una persona del post, da questo periodo, allora sì, gli è più attenti. L'altro è vero che nella gastronomia deve sporgerti a ogni caso un grum di maniativa di svaliva per incontentare gli avventori. Un che va a te baracchino dalla CERN, non come per forza in maniera CERN. Le segure, ce che d'autore da come a NER. L'alternativa numero uno, le senza autore il pesce. E questo vuole dire che se ne provate di più via per la Caresema. Ma noi, ce che se ne scorgi bene, mingono di più, ma non più di chi c'è che c'è in passato. Chi c'è in passato guardava di più, di Caresema, di torre il pesce che dice. Adesso guarda proprio il mercoledì al cender e va a costa, diciamo, il vendersente, se no gli altri vendersi è sempre di più, ma non può essere una cosa più che tante. Che slemingola il tenor generale? Gli affari con la CERN e col pesce muda ma pecca in denarcaresema. Un segno che la regola sul maniera del fondamento cristiano non ha forza assa per avere effetti sull'economia. Ma anche, che il consumo le schiava lì fora per tutta l'anno, a già che ogni momento si ha la letta ogni sorta di maniativa. Le portali internet di valutazione della offerta turistica TripAdvisor ha dettagliare corvara desco posti di vacanza più apprezzati dal pubblico italiano. Le portali sciistic skiresort.de ha dettagliare la pista dei schi da Piccolin desco la più bella foccia dell'anno 2011. Le governo provinciale di Balsang ha decreto l'introduzione della edema scolastica da CINDIZ per l'anno di Scoracovina. Se è venuto il programma attacchata di più perci con recursi i pluris costituzionali. Da vorrei un'anno attenzione con le grandi fiere di esposizione turistica e la che opera d'Usta del Mondo se incontra per se presentare una lata delle ultime novità. Alla BIT da Milan è l'incedabile tre ciladini. Anche la borsa internazionale dal turismo BIT da Milan c'erda sporoja i operadus turistici da due tre monademi prodotti in Caledano. I s'ambleg ne manchano niente che le svalade ciladine. Alla prossima è stata una lata di scolastica. I sottotitoli a tutti i nostri amici. Sottotitoli a Milano per l'ABITI, Sottotitoli a Berlino per l'ITB, e anche Sottotitoli a Caledano. È molto importante per noi. e anche altre persone, oltre a tutti i nostri amici, non sono più fiori. Alla prossima è l'autore dell'Italia, che questa grande fiera del turismo perde da Anna An-Pace. Tanto che trecponsi ad accendere, ciò che facciamo la meia da estra la perdita. Ma il momento è che la fiera si arriva. Non c'è un po' di due, non c'è un po' di due, non c'è un po' di due. Il mondo è cambiato, la comunicazione è un po' di più. Non c'è un po' di social media, internet, non c'è un po' di ultimi cinque anni. Non c'è un po' di due, non c'è un po' di più. Abbiamo incontrato il turistico, le agenzie di viaggio, un po' di nuove persone, o alcuni portai dell'internet. Abbiamo fatto anche alcuni soldi con l'internet, e ciò ci dà bene contatto con loro, con il turistico. Inizia per chi dai consorci turisti, che sono le posti sotto il tetto della merca su Tirol per cercare la Val Badia, dal Trentin per Fascia, dal Veneto per Fodomi Cortina, e va al vantaggio da essere presenti in Nant. Per la Val Badia, prima di tutto, c'è anche altri. Quindi c'è un attrazione importante che c'è anche il mondo, tutti i nostri migliori, tutti i nostri migliori, quindi alla più margine di paragone. e da lungo a casa, poi ci si presenta, avere contatti con i nostri referenti, giornalisti, con altre altre realtà, le tre importanti da avere in confronto con gli altri. I grandi affari sono in faccia al trò. I canali di comunicazione elettronica sono permette da Romagna in contatti inciederti in l'anno. E poi i contatti umani di RET-3 sono molto importanti. I suoi trecchi, che vanno per le sfere turistiche. Il prossimo grande appuntamento di questa sorta è la ITB a Berlino, dai 7 a juni di marzo. Incire questa trasmissione di Forai e Belondoro ha da pizza, in un'altra parte. Il prossimo giorno è l'ultima giubbia del mese di marzo. Ci vediamo qui. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti